buongiorno amici oggi prepareremo insieme una torta rustica con prosciutto cotto e zucchine adesso vi elengo gli ingredienti abbiamo bisogno di 800 grammi di zucchine tagliate a dadini del 100 grammi di prosciutto cotto anch'esso a dadini del parmigiano 2 uova e un 100 150 ml di panna alta cucina ovviamente del sale del pepe dell'olio e mezzo spicchio d'aglio a questo punto non ci resta che iniziare la preparazione venite con me allora in una casserola ammettiamo un filo d'olio aggiungiamo mezzo spicchio d'aglio e lasciamolo leggermente imbiondire una volta abbiondito l'aglio lo andiamo a eliminare e aggiungiamo le zucchine aggiungiamo il sale copriamo e lasciamo stufare le zucchine sono quasi pronte a questo punto andiamo a spegnere e le facciamo raffreddare allora in questa ciotola mettiamo le due uova e cominciamo un pizzico di sale un po di pepe del parmigiano e continuiamo a mescolare a questo punto aggiungiamo la panna e adesso le zucchine lasciutto cotto prendiamo amalgamare aggiungiamo un altro po di formaggio e il nostro impasto è pronto nel frattempo ho preparato un panetto di pasta frolla salata che troverete il link alla fine del video e quindi adesso io lo vado a spianare per questa torta ci vuole un panetto almeno di 400 grammi di pasta frolla quindi vi regolerete di conseguenza guardate sul link della mia pasta frolla e sarà facilissimo a farla io l'ho spianata a questo punto vado a incorporare il nostro composto abbasso i bordi della torta e la nostra torta è pronta per essere infornata a 180 gradi per 40 minuti amici la nostra torta salata è pronta amici spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento vi aspetto alla prossima un like al video iscrivetevi al canale e se volete commentate vi do l'appuntamento alla prossima ricetta un abbraccio e un grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti